Ragazzi e ragazze benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi vi presento un video diverso dal solito, direttamente dalle Bahamas con Checco Bomba. E sì ragazzi, avete sentito bene e avete letto anche bene dal titolo. Ho fatto un game con Checco Bomba. In realtà ho giocato più game con Checco Bomba. Abbiamo avuto modo appunto di giocare insieme, parlare e ci siamo divertiti davvero tanto insieme. E quindi oggi vi presento questo video fantastico dove a un certo punto Checco purtroppo muore e io lo porto direttamente alla vittoria con 20 kill da sola, per i fatti miei. Io ragazzi spero vivamente che questo video vi possa piacere, se dovesse essere così mi raccomando lasciate tanti mi piace e scrivete anche nei commenti se volete vedere nuovamente un duo con Checco. Inoltre ragazzi, una cosa molto veloce, ricordo a tutti coloro che hanno intenzione di supportarmi indirettamente, avete modo di farlo tramite Fortnite. Basterà andare sull'item shop di Fortnite, in base a destra supporto a un creatore e scrivere il mio nome che è Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi è fatto. Vi ricordo inoltre che ogni 14 giorni il codice verrà eliminato direttamente dall'Epic Games, quindi ogni 14 giorni dovete assicurarvi di reinserire nuovamente il codice. Ah ragazzi, peraltro trovate qui in descrizione, qui sotto ragazzi, il link del canale di Checco Bomba, quindi andate e iscrivetevi, forza forza, andate, andate. Godetevi questo video e buona visione. Io sono nel palazzo centrale. Io l'andrò sempre a quello centrale qui, quello grigio grande. Ah, ho capito. Vabbè vengo da te. Ok, vengo da te. Fammi levare le notifiche dal telefono, ho capito. Grazie. A posto. Non riesco. Ok. Vuoi uno scudino? Ma scudino, sì, dammi uno scudino, grazie. Come l'hai detto, grazie, con l'asso tappato, bellissimo. Grazie. Sto tappano non pompa, quindi. Ah, c'è una lì, è alla C. White. Marita, Marta. Ah, la trappa, la trappa, la trappa. Questo se lo so. La trappalo, la trappalo. Trappalato, trappalato, trappalato. C'è rimasto male? Eh, Martina, ci sono da sola, che cazzo. Cioè, non è possibile. Ma che... Teamwork, ok? Ah, sì, sì, sto scherzando. Dove è quello che ho noccato? Non lo so, però davanti a me in nord c'è gente. Eh, ma volevo finire questo qua io. Ah, vieni qua, vieni qua, la mia se puoi. Questi qua sono morti, te lo dico, sono morti di... Uno morto. Hai fatto tutto shielding. Porta, però, io la pena. Lo vedo, lo vedo. Blu. Blu di nuovo. White. Che gol, c'è un polpo. Oh, restronza. C'è un pompa per me, non lo so. Eccolo. Hai colpi di pompa? Sì, un po' sì, tieni. Oh, è davvero. Vieni qua, vieni qua come fida di fida di, vieni qua. C'è? Trust me. Qua c'è gente. Ah, cazzo, è vero. Sono anche arrabbiati, eh? Beh, non mi diresti mai una burla, vero? No, mai. È uscito fuori? Ah. Ma adesso non giro tanto questa? You're right, my eyes. Oh. Qua sotto, eh? Ah, BB. Eh. Ok. Stai pushando, eh. Ok, metto l'impulso, eh. Cazzo, meglio! Oh, Dio! Martona? Sono da solo! Guarda che ti sta sparando uno con la K, eh. No, no, mi vogliono proprio male, non hai capito. Eh, lo so, ho visto. Mi vogliono fare male che ecco, la bua. Ma non è che shield io, non c'ho niente. Orco, giù dal via, ecco. Ma si sono buttati? Sì. Eh, ho fatto un botto di danno. Ma in movi, sto scappando. Affanculo davanti a me. Ma! C'è uno qua sopra da me. 3,30. Uno è proprio sopra da me, ma non posso pusharlo. È una madonna. Ma, 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 ma. Mi ha fatto un po' di male, eh. È scappato, è scappato. Ok, è entrato... Qua dentro che sono io. Attenta Martina, attenta Martina! Ok, nel dubbio che c'è la lì, no? È qui sotto, lui, eh. È proprio dentro. Ancora c'è? Eh, sì, sì. Ah, i piccolini li hai un po'? Tieni. E lì, è sicura? Ok, vabbè. Non so io. Esci, esci, Checco! Non sapetevi tu? Ecco, io uscirei, forse in giro. Non toccare Checco, stupido! Dai, però, guarda, la bestemmia, cazzo. Ciao, Checco! Ho allacciato tu cazzo dei razzi in bocca, ma non mi stavi trovato. Vuoi band? No, grazie. È qua. C'è qualcuno che vola. C'è gente, sì. Ah, te lo vedo là sopra a sud, lo vedi? Doppio blu? E' a parte quello, a parte quello. Sono sulla montagna che mi sta guardando tipo malissimo. Esatto, esatto. Blu? È il cappello che sta facendo lì sull'anno. No, questo qua l'ho tipo sfondato. È lì che sta piangendo. È lì che... No, ha riftato. Mortacci tua. Lo seguo. È andato dal compagno maledetto. Martina, attenta, Martina. Ma sono morti tutti. Ma vai tranquillo. Vai. Non ti preoccupa. Oh, arriva qualcuno, arriva qualcuno. Da 2,40. Uno qui vicino. Asimile, vai, na. Te. Uuuu, l'ho passato Hs. L'ho passato in Hs. Non cazzo. Blu? Hs è morto? No. Il muro è mio? Blu? Mi sa. Come hai fatto a colarti quella kill, scusa? Non lo so. Bevi di questa? C'è una super in più. Tu vi ho fatto dei kill, sì. Te la puoi bere questa, se vuoi? Eh, nel dubbio non la bevo più. Eh, niente. Bevi la tu. No, l'hai già bevuto? Eh, sì, sì, già fatto, già fatto. Ah, beh, faccio così. Vai. Tanto, ragazzi, non ho finito la live, fate i buoni. Martina, però, te la vede. A porca, non voglio. Ne ho trappato uno, muori sicuro. Ciao, bello! Ok, via uno. Ne bussia un altro. Lazaro, blu, blu. Triple blu. Blu di nuovo. E sto qua sta piangendo. Ah, non piange più. Siamo io, cazzo. Ragazzi, niente. Dai, l'importante è vincere, poi, ragazzi. Ma infatti quella è la cosa importante. Senza. Ti voglio usare il campfire, che cosa. Nooo. E fammi sta cecchinata. No, 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 no. Che c***o. Che c***o fa il d*****o. Uno che puscia qua sotto, c'è quell'altro che ti sta guardando. Nooo, Martina, l'ho preso però, 105. È morto uno? È morto, quello sotto. È morto anche l'altro? Centimmi, centimmi. No, Martina. Dio, sto un po' rincoglionito i boss, eh. No, 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 birtano bene invece. Sì, ma? Su questo si è bloccato, sto birtano. Come è sotto, guardate? È morto uno. Due. Sarà fino, dito. Morto uno. Ottanta blu, un altro. Trappato. Ciao, bello. Martina, vieni qua, Martina. Arrivo, che c***o. E' lì. Otto. Sei. Martini. Non potevo farlo. Non me lo faceva fare. Non me lo faceva fare, però. Giuro. Addio, che c***o. Oddio. Vabbè, tanto sono stato bussato da mattina. Nel dubbio. Stavamo dicendo? L'hai trappato tutti? C***o, 15 kill. La madonna. È proprio lei che mi ha dato una mano. Ah, è giusto lei. Ronna, 15 kill, porco zozzo. Ma, cioè, mi ha rubato 15 kill, ragazzi. Sì. Ma veramente. Mi sembra di più che c***o tu le rubate tu. E basta. Dissing. Perché qua, Crotemys, dove è giusto inchinare. E infatti mi inchino, Crotemys. Dai, dai, Martina. Purtroppo non puoi fare record, vero? Il tuo è 22. Ah, pappo ste. Sì, in duo sì, 22. Ah, certo, certo, signorale 89. Come lo so? Questo non sa che neanche sa che è forte. Morire. Ah, Martino! Dai, te lo schioppi, porco zozzo. 17 kill, vai! Vai, Martina, vai! No! Intanto siete calmi. Quindi un team da me e quello da solo, va bene. Ok, 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 va bene, tutto chiaro. Che mi dici che io non riesco neanche a farlo in due anni? No, come, Mattia, come no. Eh, non è... Cioè, è un po' la situazione bislacca per noi, però... Uno contro tre, eh? Mamma mia, questo si sta proprio a mirare come un pezzo di merda. Ah, entrammi il cecchino poi fa un problema, diciamo. Alzo. Oh, regà, forcotroio. Ah, niente, Mattia, non c'è comunque, è strasubletto. Oh! Oddio mio! E levati! Stupido Bibby. Dove ho vincere sto game perché, ecco! Vai, Martina, ma perché ti ho chiesto di venire a giocare con me, scusa? Forza troia, oh! Ma, mamma mia, due, ragà, ma che cazzo è? È indemoniata! Oh, Mattia, Mattia! Grande, Mattia! In botta, in botta, in botta, in botta. Dai, dai, tutti i siti in chat, tutti i siti. Boni, atti e boni. Andiamo a mano. No, porco, zuzo, zuzo. Oh, dobbiamo vincere il game! Devo vincere il game, hai capito? Dubito Bibby! Va bene, che co? Venti, i bombe ti vanno bene? O non ti vanno bene? Non ho sentito! GG. GG. Bad game.